Cari telespettatori abbiamo qui con noi Serena. Serena perché vuoi fare la doccia? Perché sinceramente ieri abbiamo fatto una camminata molto faticosa e ho sudato. E perché non l'hai fatta ieri la doccia? Perché non si poteva fare. Come no? Io l'ho fatta. A noi la Missy, la nostra animatrice che è in camera con noi, vi ha detto che era troppo tardi quando siamo andate a letto e che non potevamo farla. Allora vuoi fare un richiamo alla Missy? Sì, adesso sì. Allora Missy, se mi stai ascoltando voglio fare la doccia. Ciao a tutti, abbiamo qui con noi Agnese. Agnese, cosa ne pensi di questo campo? È molto bello perché poi ci sono anche le mie amiche. È molto bello, mi sta molto simpatica l'Anna. E tra quanti campi hai fatto te? 50. Tre, escluso uno che è dei lupetti che faceva schifo. Ah, ok. E quale è stato il più divertente? Quello dell'anno, l'anno scorso. E gli animatori, cosa ne pensi di loro? Giacomino fa schifo. E la Gabriella, dai, è simpatica. La Missy è un po' rompi, però è simpatica. Chi? Uno o due? Dai, è simpatica. Dai, tutti gli altri sono simpatici a parte Dario, Matteo, Marco, tutti i maschi che rompono. Concordo. Bene, e vai un saluto alla telecamera? Ciao! Allora, buonasera cari telespettatori. Qua vicino a me ho Ginger. No, Davide. Sì, anche Davide, dai. Allora, adesso gli vorrei chiedere una cosa. Allora, vorresti cantarci e farci il balletto di Renato? Ah, eh, sì, ok. Dai, alzati. Vai. Tieni. Non ci distingue. Renato, 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 non sono innamorato. Le passeggiate come ti sembrano? Valle, dai. Un po' stancanti, però. E, allora, la notte dormi bene, così. Sì, dai, all'inizio con Dario, Dario, non so, però... Adesso abbiamo PG, un po' più di tranquillità abbiamo. Però è peggio. Sì, perché non possiamo fare gabbana. Ah, gabbana. Allora, vuoi dire qualcosa, Dario? Ti voglio bene. Veramente? No. Cari telespettatori, abbiamo qui al telefono Valentina, che si sta preparando all'esame di maturità. Ah, ciao a tutti. Allo. E si mi trova. Ciao, Vale. Ciao, ciao. Ti dobbiamo fare qualche domanda. Eh, chi parla? Sulla Bea. Ah, ciao Bea, dimmi, dimmi. E, allora, come ti stai preparando all'esame? Ah, mi sto preparando, studiando molto assiduamente, e, mattina, poveriggio e anche notte. No, no, non è vero, non è vero. Non ci crediamo. Eh, insomma, dai, è domani, ce l'ho l'orale, poi dopo ho finito tutto. E hai paura? Paura un po', sta venendo un po' adesso, però lei non c'è male, non vedo l'ora di finire, più che altro. Ti dispiace di non essere al campo? Eh, ti dispiace di non essere al campo? Eh, molto, moltissimo, infatti, vi penso sempre. Eh, per fortuna che sento spesso la Giulia, che mi dice cosa state facendo, e, quindi dai, sono in contatto con voi. Io non ti manco, Vale. Dai. Grazie. E, saluta! E perché? Grazie che ci, ti manchiamo, cioè. Sì, sì, quello molto, molto. Eh. Eh. Saluta. Saluta? Saluta tutti, ma questa intervista dove va a finire? Ah, sono il TG Campo. Grande TG Campo, vi voglio vedere tutti poi TG Campo, eh. Voglio vedere le foto che avete fatto e tutto tutto, eh. Va bene, va bene. Ciao Kugia Forever! Ciao Vale! Ciao! Ciao a tutti! Ciao Vale! Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Siamo un po' fusi, eh? Vieni qua, le do un caffettino, dai, deve arrivare stasera. Ma io il caffè di realtà l'ho già preso, eh? Ce n'è un altro caldo, caldo. Grazie a tutti.